E' fatto il video, siamo ancora vivi, ci siamo beccati un acquazzone che Dio la manda perché quando il Dio è contento piange e allora manda il diluvio volevo dire una cosa alle persone che continuano a mandarmi messaggi sul fatto offensivi e sono sempre powerlifter, non so come mai mi rompano così i coglioni dico una cosa al powerlifter in generale e mi rivolgo a Domingo perché con Domingo abbiamo avuto una discussione, degli altri poco ma ne importa e questa frase me l'ha suggerita una persona che poi comunque ho seguito Marco siamo sentiti, siamo parlati tantissimo sulle tecniche abbiamo riparlato sulle video, sul fatto che scientificamente, ed è questo il problema di oggi che la gente decide di parlare delle viduti su quello che sta scritto, poi non lo prova ci sono le discordanze tra le scritte di Menzel impazzito per aver perso Mr. Olimpia Conardo alle viduti veri e propri che ho provato per praticamente tutta la vita Domingo, tu nel mio mondo non puoi sopravvivere con le mie regole io nel tuo, sì, se sto attento due o tre cazzate